Un invito forte ad abitare le parole, abitare i gesti, abitare le celte. In un momento dove le parole, i gesti, le celte a volte procedono senza essere abitati, Legasperi con la sua umanità, col suo stile, ci insegna a riempire di senso e di presenza i gesti e le parole. Poi ci insegna anche ad avere il coraggio di portare avanti idee grandi, anche senza il consenso di tutti, a portare avanti idee anche quando si è avversati, perché se l'idea è buona, prima o poi, con la pazienza, trionfa.